Il fenomeno del forte odore di plastica bruciata, facilmente percepibile dalle ore 19 alle ore 22, continua a essere un problema per il territorio di Monte Paone. La promessa era di organizzare servizi di controllo mirati con droni, pattugliare costantemente le zone da cui da oltre un anno si segnala la presenza del forte odore di plastica, che fa pensare allo smaltimento illecito di rifiuti. Non si esclude che possa essere coinvolto anche il territorio di Gasperina, che confina con Monte Paone. Il fumo generato dalla plastica che brucia può essere pericoloso se inalato, a causa delle sostanze chimiche tossiche che vengono rilasciate per combustione. Questo può essere un rischio in caso di incendi accidentali, ma lo è ancora di più se la plastica è bruciata deliberatamente, magari per disfarsi dei rifiuti in maniera non del tutto corretta.